C'è un po' sugo della parcia che dice, di tutto quello che mi dai, io darò un decimo a te. Il famoso filantropo ebreo, Sir Mosè Montefiore, visse nel diciannovesimo secolo in Inghilterra. La regina Vittoria, una volta, gli ha chiesto, quanta ricchezza avete, quanto possiedete. Sir Mosè le disse che ci avrebbe messo un paio di giorni per fare un po' di contabilità, dopo la quale sarà in grado di rispondere. Quando Sir Mosè torna portando l'entità della sua ricchezza, la regina Arrabio, dicendo, Mi stai insultando? Tutti sanno che hai molto di più. Sir Mosè ha spiegato che lui ha considerato come la sua ricchezza tutti i denari che ha dato in Siddhaka, beneficenza. Tutto il resto che detiene è solo temporaneo, è soggetto alla confisca o alla perdita. Shabbat shalom.